Sulla natalità sono d'accordo sul fatto, e l'ho detto, che è una delle nostre priorità. Penso che davvero ci voglia coraggio a sostenere che questo Governo non ha messo al centro il tema della natalità, con le poche risorse delle quali disponiamo. Io voglio ricordare che noi abbiamo aumentato l'assegno unico di 3 miliardi, abbiamo esteso il congetto parentale, abbiamo introdotto la decontribuzione per le mamme lavoratrici, abbiamo previsto sgravi per chi assume donne giovani, abbiamo previsto l'asilo nido gratis per il secondo figlio e così via. Poi c'è una battaglia in tema di natalità che mi auguro che anche l'opposizione ci aiuti a fare e che riguarda proprio l'Europa, perché come voi sapete l'Unione Europea, la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia sulla materia dell'assegno unico, che è una delle poche questioni su cui in quest'avola siamo tutti sempre stati d'accordo. Fu istituito nella scorsa legislatura anche con il voto dell'allora opposizione, è stato aumentato da questo Governo, quindi è una delle poche cose su cui siamo d'accordo. La Commissione Europea ci apre una procedura di infrazione sostenendo la bizzarra tesi che noi dovremmo riconoscere l'assegno unico a tutti i lavoratori stranieri, anche a quelli extracomunitari, anche a quelli che hanno figli in patria. Ora, voi capite che con questo principio, secondo me molto ideologico, noi ci troviamo di fronte a una misura che per noi non è più sostenibile, al netto del fatto che, capite bene, anche che è molto difficile andare a verificare quale sia il reddito ISEE di un lavoratore che arriva, per esempio, dal Pakistan.